Allora, buongiorno, benvenuti a questo appuntamento consueto del mattino con la rassegna stampa. Oggi è mercoledì 15 maggio 2019, verrebbe da dire 15 gennaio, 15 febbraio, visto anche le temperature e il tempo. Insomma, stamattina alle 6 erano 9 gradi, quindi possiamo dire temperature decisamente invernali. E non andrà meglio neanche nei prossimi giorni, ma lo vedremo tra un istante. Intanto salutiamo i nostri telespettatori e andiamo a vedere il santo del giorno. Perché oggi, tra l'altro, è un santo al quale si potrebbe ricorrere, visto che gli agricoltori con tutto questo maltempo sono alle prese con i lavori sui campi, nei campi. Insomma, c'è da fare, c'è tanto da fare. E allora perché non chiedere aiuto a Sant'Isidoro, che tra l'altro è patrono di Madrid, molto amato in Spagna. È stato un agricoltore, fu contadino anche lui, è nato nel 1070 e Isidoro era un mistico. Pensate che dava il grano ai poveri, però quel sacco di grano non si svuotava mai, così come poi vide e constatò anche il suo padrone. Il sole è sorto alle 5.42, tramonterà alle 20 e 27 minuti. Alto il tempo, dicevamo, ci sta girando intorno. Abbiamo tanta pioggia, proprio al confine con la regione Marche a nord. C'è tanta pioggia che ancora sta cadendo sulla Romagna. Ci sta girando l'intorno, ci sta lambendo, chissà, forse qualche scroscio di pioggia l'avremo ancora nel corso della mattinata. Le temperature in diminuzione dei valori minimi, in aumento invece le temperature massime. Ancora un po' di vento fresco durante la giornata di oggi. Allora, partiamo con la segnalazione del nostro telespettatore Enrico. Qui siamo sulla diga di Mercatale, è uno scatto di pochi minuti fa. Il nostro segnalatore ci dice che la diga è, insomma, come vedete anche voi, anche se non siamo immaginati degli esperti, a parte quelli che ci vedranno da Mercatale, ma insomma è piuttosto piena. Ci informa che sta svuotando solo da una parte, comunque è tutto regolare. Quindi abbiamo voluto far vedere questa bella immagine per cominciare la nostra rassegna. Ma andiamo a salutare anche i telespettatori che ci seguono da Civitanova, che sicuramente staranno dormendo perché hanno fatto le ore piccole stanotte per festeggiare, o qualcuno sarà sveglio per andare a lavorare chiaramente, ma per festeggiare lo scudetto incredibile davvero della Lube che ha vinto la gara contro il Perugia perdevano, pensate, 2-7-0, poi hanno rimontato e hanno vinto 3-2. Bellissima partita e complimenti. Andiamo a vedere i giornali adesso velocemente. Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, centro pagina, nessuno sconto per Filippo Magnini. Quattro anni confermata in appello alla condanna sportiva, l'ex campione mondiale, assolto Santucci, ha aumentato a cinque anni lo stop per Farnetani. Poi Di Maio, ieri nelle Marche, un'intervista che il Corriere Adriatico ha fatto al Ministro. non ci siamo dimenticati delle Marche. Il Ministro dello Sviluppo Economico, nelle Marche a meno di due settimane dalle elezioni europee amministrative, svela in esclusiva il Corriere Adriatico le mosse del Governo per sciogliere i nodi che bloccano la rinascita delle Marche. Dalla crisi alla ricostruzione fino alle infrastrutture e sulle regionali del 2020 il Vice Premier e leader del Movimento 5 Stelle incalza e dice Un Governatore pentastellato può essere una speranza per i territori, specie nelle regioni che gestiscono una materia delicata come la sanità. E poi si parla in apertura, nell'edizione di Pesaro, di Via Lombroso. Via Lombroso che è diventata pericolosa e la rotonda dunque raddoppierà. Davanti all'ospedale e ai piedi dell'ardizio ha provato lo studio di fattibilità. Questa invece è la pagina del resto del Carlino, sempre l'edizione di Pesaro con la cronaca in primo piano e l'atto di coraggio di un edicolante che è stato anche ex cestista che ha fatto restare uno spacciatore di droga. Il cittadino poliziotto, questo è il titolo e la fotografia immortale a Roberto Terenzi appunto l'ex cestista davanti alla sua storica edicola con due agenti della polizia e poi l'addio a fattori che ha curato migliaia di pesaresi. Magnini confermata la squalifica, sempre in primo piano sull'edizione di Pesaro e poi Lodovichetti che è stato eletto il fanese dell'anno nella serata, nel Galà che c'è stato l'altra sera al Teatro della Fortuna di Fano. Di Maio suona la carica a suon di spot, il titolare del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi Mise, parla di famiglie e di sanità ma dimentica le questioni locali. È stato accolto da un'ovazione il Vice Premier Di Maio ieri sera al Masetti dove è arrivato con un'ora di ritardo. E l'abbiamo aspettato anche noi, era stato annunciato per le 20, poi è arrivato intorno alle 21. Comunque stasera vi daremo conto di quello che ha detto il Ministro. che però non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa. Conad acquisisce Ocean, allarme tra i sindacati, il lavoro che cambia, timori per i livelli occupazionali, speriamo siano mantenuti, lo vedremo tra poco nelle pagine del Corriere Adriatico. Fano, gasolio di contrabbando nel camion, una denuncia, sequestrati 36 mila litri, autocisterna fermata al casello autostradale, neguai un autista portoghese. I documenti erano di una società campana che però non era in attività. Da Marotta invece un investimento grave, un incidente grave, una donna di 45 anni, madre di tre figli, è stata investita sulla Statale Adriatica da un'auto all'altezza del nuovo parcheggio della stazione di Marotta. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, intorno alle 15.30, una Citroen C4 condotta da una signora marottese ha investito una donna di origini senegalesi di 45 anni e ha atterrata l'eliambulanza, l'elicottero in mezzo alla strada che poi ha portato la donna, la 45 anni, all'ospedale regionale di Torrette. Il conto del maltempo si inizia con 200 mila euro di danni, strade, frane e non solo, la prima stima è del Presidente della provincia Giuseppe Paolini che ha anche detto siamo solo nella fase di inventario, stiamo chiudendo le buche ma sono soluzioni temporanee, servono interventi definitivi. Poi a Santa Veneranda, sempre a Pesaro, vicino alla rotatoria di via Bonini un cipresso pericolante è stato abbattuto dai vigili, sono i postumi del maltempo. Poi la questione che riguarda appunto gli agricoltori, l'agricoltura, meloni, anguri affogati nell'acquazzone. Poi ha il Comune di Cagli che fa richiesta per lo stato di emergenza e il Foglia, che è il fiume Foglia, dove è andata bene nel senso che non è straripato, non è esondato, insomma è andata bene però i residenti dicono noi non siamo tranquilli mentre a Montefelcino il fango ha invaso le colture. La mareggiata a Senigallia ha colpito duro, c'è una distesa adesso di rifiuti in spiaggia la famosa spiaggia di Velluto davanti al lungomare dei Marconi le ruspe sono al lavoro, questa volta nessun aumento della tassa sui rifiuti. E poi ancora dalle pagine del Corriere Adriatico l'addio al medico Luciano Fattori per tutti il DOC il ricordo del Presidente dell'Ordine Battistini che dice abbiamo perso un grande uomo, un grande professionista aveva 68 anni, ex Presidente dell'Ordine Provinciale nato il 16 giugno del 1950 e lo ricorda appunto anche il Presidente Paolo Battistini che è l'attuale Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Piesa Urbino. Magnini perde anche in appello il Tribunale ha confermato per lui 4 anni di squalifica la Procura ne aveva chiesti 8 lo ricorderete Filippo Magnini era finito sotto accusa per le frequentazioni con il nutrizionista Guido Porcellini a sua volta squalificato per 30 anni e a processo penale a Pesero per doping. E poi a Urbino l'eleganza su quattro ruote domani sfileranno domani mattina le auto d'epoca delle mille miglia che scorreranno nella città ducale dalle 7 alle 14, dalle 7 del mattino fino alle 2 del pomeriggio nel centro storico che dunque sarà inaccessibile e tutte le vie saranno chiuse comprese le scuole superiori e le medie. È come sempre per chi conosce la mille miglia un momento affascinante, molto bello che riporta un po' indietro nel tempo e purtroppo slitta ancora una volta la riapertura di Bocca Trabari a Seneri parla da lunedì siamo a Borgo Pace in una prima fase ci sarà solo il senso unico alternato è tutto bloccato dal marzo del 2018 e restiamo sempre da quelle parti perché grazie a Giuseppe Dini di Sant'Angelo Invado e alla sua caparbietà che è stata davvero determinante non si farà nessuna centrale idroelettrica alla cascata del Sasso sul fiume Metauro una delle 10 cascate più belle d'Italia con un fronte bagnato di 60 metri ed un'altezza massima del salto di circa 15 metri e questa è una bella notizia possiamo dire perché guardate che meraviglia questa cascata io ho avuto modo di vederla qualche tempo fa sono rimasto tra l'altro quasi sconosciuta ma davvero bella, suggestiva, meravigliosa e dobbiamo dire davvero grazie a questo uomo Giuseppe Dini che con la sua tenacia, con la sua caparbietà ha fatto di tutto perché questa centrale non venisse costruita poi ancora cronaca a Bellocchi di Fano si barrica in casa per paura dei ladri ma viene colta da Malore intrappolata in casa colta da Malore dopo che aveva sbarrato la porta dell'interno per difendersi dai ladri un'anziana è stata raggiunta dai vigili del fuoco che hanno dovuto sfondare una porta affidandola poi alle cure dei sanitari del 118 e poi Mattia, un solo braccio ma un paio d'ali Negusanti piloterà un aereo grazie ad un apparato sviluppato dall'Aeroclub è dunque un sogno che si realizza demolito il ponte tra il Lido e l'Arzilla ma è ancora polemica e poi qui ancora la notizia del contrabbando di gasolio dove sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Fano 36 mila litri di gasolio ecco, allora questa è la notizia che alle massaie che ci stanno seguendo numerosissime che salutiamo con affetto come sempre tutti i giorni la notizia è che il marchio Conad che la Margherita che ci accompagna ormai da decenni che abbiamo conosciuto anche con piccoli negozi sotto casa ebbene sta comprando e sta diventando questa Margherita sempre più grande comprerà SMA e Ocean e c'è un po' di preoccupazione chiaramente per i lavoratori di SMA Simpli del gruppo Ocean per esempio nelle marche Conad acquisirà 27 punti vendita di SMA appunto del gruppo Ocean con 1100 dipendenti e poi tutto Ocean quelli di Fano il supermercato di Fano e quello di Ancona che conta all'interno circa 350 dipendenti insomma un'operazione davvero incredibile un'operazione gigante sono circa 1500 dipendenti coinvolti da questo passaggio è una svolta storica anche nella nostra regione i sindacati che fanno ovviamente il loro lavoro chiedono certezze ma insomma considerando anche quello che è successo con lì per Rossini a Pesaro possiamo credo dire di stare abbastanza tranquilli nel senso che insomma a Pesaro credo che sia andato tutto sia andato tutto bene anche perché ha un marchio da difendere non penso che arrivi e qua e licenzi tutti quanti insomma quindi un'immagine da difendere Conrad allora Andrea Lodovichetti è il fanese dell'anno e il commercio celebra il suo trionfo al Teatro della Fortuna il gran galà che ha incoronato le attività e i personaggi preferiti Andrea Lodovichetti lo vedete in questo in questo scatto fotografico mentre tiene il premio che consiste nella statua della Dea della Fortura e poi insomma sul palco i vari personaggi chiamati in causa da Jeffrey Di Bartolomeo che ha presentato la serata a compagnoni e tutti insomma De Benedictis tutti quelli che erano in nomination diciamo così poi c'è anche vedo qua l'allenatore appunto del del Trento Angelo Lorenzetti insomma tanta gente possiamo starli a nominare tutti quanti andiamo di nuovo a Senigallia sono in arrivo 11 nuovi vigili urbani ora scatta l'operazione state sicura il comune ha anche attivato una selezione per l'assunzione di 10 agenti a tempo indeterminato addio a Giuliano impiegato modello del comune di Senigallia fino al 2009 Anselmo Giuliano Anselmo era stato responsabile dello sportello unico e poi sempre dalla provincia di Ancona Monte Marciano mi dai un passaggio poi sale in auto picchia rapina il turista un transessuale punito a Marina di Monte Marciano con lei o con lui insomma c'era il protettore condannati entrambi a 5 anni e poi ancora scoperto un cimitero di auto a Iesi auto fuori leggeri cambi targhe timbri falsi 23 le persone indagate e questa era invece l'immagine della diga di Mercatale con la quale abbiamo aperto la nostra segna stampa che si conclude qui grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questo è il numero di telefono da memorizzare sul vostro cellulare per le segnalazioni alla nostra redazione noi ci vediamo questa sera alle 20.30 con Occhio alla Notizia il telegiornale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.